oggi andremo a parlare del trading di attenzione per chi mi segue da un pochino saprà che mi piace molto il token di convex mi piace molto il token di curve e il token di convex anche se curve ha avuto un pochino più di controverse come che abbiamo pochino seguite essendo molto legato però mi piace quell'ecosistema di monete e mi piace con l'ecosistema di monete perché soprattutto nel vecchio bull market ero molto seguivo molto più l'utilità di un token del di quanto potesse crescere in base a quanta attenzione ci fosse su quel token quindi è sempre complex mi piace e mi piaceva perché ha una revenue stabile costante ogni due settimane di paga e questo ha del valore ha evidentemente del valore comunque il market cap di convex ora è a 250 milioni anche se molto basso in confronto a quello che potrebbe essere però il punto è che al mercato della revenue interessa poco al mercato della revenue interessa quando c'è da costruire una narrativa intorno al revenue quindi ad esempio nel bear market gmx è salito tantissimo perché si stava creando una narrativa una storia intorno al real yield ma effettivamente le revenue lasciano il tempo che trovano quindi sono importanti da un certo punto di vista saranno importanti di sicuro in futuro ma per come funzionano adesso le cripto non sono così importanti soprattutto se stiamo entrando in un bull market sentivi dovrei fare questo video perché ho fatto tantissimi video su convex e sono ancora bullish sul concetto di convex il punto è che probabilmente mi sbagliavo nel vecchio bull market anche se nel vecchio bull market ho fatto anche trade molti trade che non c'entravano nulla con la revenue solo che ho probabilmente sbagliato nel detenere la maggior parte di token che avevano revenue il problema è che numero uno la revenue ti limitano in qualche maniera perché se tu hai delle revenue vuol dire che il tuo token è legato a qualcosa di reale quindi è possibile dargli un prezzo soprattutto se poi le revenue sono legate al prezzo del token quindi a quanti token sono ad esempio messi in stake quindi se il prezzo sale la pr scende perché ti pagano di meno in base a quanti token tu metti in stake quindi se hai delle revenue è più facile darti un valore e darti un valore nel cripto e in bull market soprattutto non è ottimo perché hai un limite perché oltre un top non puoi andare altrimenti le tue revenue diventano molto basse quindi non ha senso avere quel token in primo luogo se la storia che si era creata era in base al revenue e poi le revenue scendono perché il prezzo è salito quindi ti paga di meno per token vuol dire che quella storia vale di meno e quindi il token poi scende quindi è brutto perché puoi dare effettivamente un valore e quando non puoi dare un valore a qualcosa cosa qualcosa può valere da zero a infinito perché non sai come dargli un valore quindi possiamo vedere perché le meme coin molti meme coin in questo ciclo hanno superato la grandezza di convex credo che le meme coin siano migliori di convex come moneta o di altre monete con revenue no non lo credo però quelle coin sono impossibili da valutare e quindi non hanno revenue non è importante cosa facciano e quindi sono salite quindi quando provi a dare le re delle revenue qualcosa sono utilità un token in bull market può diventare un debuff può diventare un aspetto negativo della moneta in più oltre il concetto di revenue c'è il concetto di attenzione quindi convex non è un token che si discute normalmente quindi non lo vedi scritto in giro su twitter non è la coin del momento lo è stato per un periodo nel bull market infatti lo possiamo vedere qui quando è arrivato a 50 no credo sia arrivato a 60 dollari comunque qua non lo mostra credo che al picco picco per qualche ora sia stato a 60 dollari e in quel momento era un token molto discusso siccome non tutto molto discusso è salito quindi principalmente se non stiamo facendo trading di lungo periodo quindi se i vostri holding saranno per il bull market voi non state facendo trading di revenue o trading di progetti che potrebbero andare bene sta facendo trading di attenzione se puntate su un progetto per il bull market quindi per un tempo breve ovviamente non si sta parlando di un qualcosa di lungo periodo voi state puntando su quanta attenzione arriverà su quel token quante persone ne parleranno quanti retweet ci saranno quanti quanti quante persone le cercheranno su coin gecko coin market cap quello porterà più occhi sul token più volumi torne le cripto può essere girato ad essere positivo e dopo non sta scendendo può essere bullish perché sta scendendo quindi lo può comprare di meno può essere bearish perché sta scendendo quindi le persone stanno prendendo soldi se sta salendo può essere bullish perché sta rompendo gli oltre maio può essere bearish perché ormai costa troppo se un progetto raggato può essere bullish perché adesso è un progetto solo della community quindi il creatore non ha più token se è un progetto non ha raggato può essere bullish perché non ha raggato può essere bearish perché i creatori hanno troppi token ovviamente se è un progetto raga può essere bearish perché ha raggato quindi in realtà tutto nelle cripto lo puoi girare come vuoi e quando c'è attenzione su un token molto probabilmente almeno per una parte di quell'attenzione c'è una salita quindi ad esempio lo vediamo con un articolo che ha fatto vitalic andiamo proprio a vederlo obama sonic non ricordo neanche tutto il nome di quella moneta il ticker bitcoin vediamo se la riesco a trovare ho trovato quindi vitali che ha parlato il 30 gennaio di una certa ha fatto un confronto ha parlato di ticker bitcoin obama sonic ciba in 10 non so mai qual è effettivamente il nome di quel token però il ticker è bitcoin e l'ha chiamato scam quindi sombrando scam scam year c20 quel token anche se è stato chiamato scam da vitalic poi ovviamente è sceso ma ha fatto vediamo quanto ha fatto da quando è uscito il post più 50 60 per cento comunque questo token non è neanche piccolissimo ha una market cap di 50 milioni quando è arrivato al picco una market cap di tipo 80 milioni quindi non è neanche piccolissimo però l'attenzione che vitali che ha dato questo token anche se lo ha chiamato scam lo ha portato a salire perché noi stiamo facendo trading di attenzione sono troppe monete troppi progetti è impossibile studiarli tutti quindi quello attorno al quale si riesce a creare più una storia più facile da capire e quelli più discussi sono quelli che si muovono sono quelli che salgono sono anche quelli che scendono quindi l'abbiamo anche visto con ad esempio satoshi savm satoshi vm che è stato decimato ha fatto uno dei lanci più brutti che ho visto quest'anno aveva anche del potenziale per continuare a salire però è stato completamente decimato magari questa è una storia per un altro video questo token ha lanciato a credo sul dex ha lanciato a qualche centesimo no forse più di qualche centesimo 40 50 centesimi in una notte era arrivato tipo a 15 dollari e poi è stato decimato ma il motivo per cui ha avuto così tanta attenzione ha avuto milioni e centinaia di milioni di volume in pochissimi giorni forse è arrivato un miliardo di volume in una settimana da quando è uscito forse un pochino di più però in dieci giorni quando è uscito forse è arrivato a un miliardo di volume o poco meno il motivo per cui ci è arrivato perché c'era attenzione perché le persone hanno iniziato a parlarne e hanno continuato a parlarne perché continuava a salire o a scendere ora probabilmente leggeremo sempre meno di satoshi vm probabilmente il prezzo non si muoverà di troppo anche se comunque non è ora non è una moneta molto grande quindi è più facile muoverla al punto che noi stiamo facendo trading di attenzione quindi non dovete se fate trading in breve termine guardare la tecnologia di una moneta o la revenue di una moneta quello può essere messo all'interno della storia che porterà attenzione a quella moneta ma se fate trading di breve termine non è quello che vi deve interessare quindi fate trading di lungo medio termine questo concetto non vi dovrebbe interessare particolarmente anche se comunque rilevante ma fate trading di breve termine l'unica cosa importante è quale storia si può creare intorno a una moneta per portargli attenzione poi ci sono anche eventi come quello di ieri dell'articolo di vitali che portano attenzione senza poter prevedere che ci sarà qualcosa del genere anche se avevamo visto questo trading di vitali con chain che aveva venduto gli bitcoin per avere 47 dollari e questo trading mi aveva fatto molto ridere avevo anche twittato fatto che la latino foundation stessere iniziando a comprare gli ethereum per iniziando da 47 dollari ma questo è un esempio ottimo per farci capire che noi stiamo facendo trading di attenzione quindi quando fate trading soprattutto nel breve periodo non vi deve interessare della tecnologia non vi deve interessare troppo dei grafici vi deve interessare di dove si sposterà l'attenzione la cosa che è molto più facile avere attenzione dove una storia è molto semplice da comprendere è ad esempio una storia molto semplice da comprendere quando c'è una moneta che ha resistito a qualcosa quindi ad esempio se questo è un esempio ottimo 60 cvm dovesse effettivamente riuscire a costruire la vm per bitcoin vm compatibile si è riuscita a resistere a tutto questo grafico allora quello sarebbe molto bullice porterebbe tantissima attenzione se non ci dovesse riuscire arriverà non lo so un dollaro o mezzo centesimo non ho idea non l'idea di quando ma dove arriverà questo token solana è resistita ftx e quella è una storia molto facile da comprendere atom è resistito a luna e quindi quando c'è una storia facile da comprendere allora l'attenzione sale perché molto più facile salire sul treno del della storia della narrativa è molto più facile parlarne e comprare il token celestia ha una narrativa facilissima compralo mette uno in stake agli airdrop sta effettivamente succedendo se non fosse successo magari il prezzo sarebbe un pochino sceso ma diciamo la narrativa è facilissima da seguire oppure l'attenzione è molto facile da dare a nuovi token quindi due tipi di token che vi devono interessare se fate trading di breve termine quindi se non volete ognuno può avere il suo stile di trading se comprate qualcosa perché vi piace la tecnologia è giusto che voi lo facciate se comprate qualcosa perché vi paga la revenue è giusto che voi lo facciate io a me piace ancora Convex io ancora Convex è parte del portafoglio ma ho capito che stiamo facendo trading di attenzione quindi due tipi di token che vi devono interessare se fate soprattutto trading in breve periodo sono i nuovi token anche lì poi c'è da vedere quindi se sono airdrop potrebbe avere il classico pattern degli airdrop in cui magari salgono, scendono, risalgono un attimino, ricrollano e poi dopo due mesi risalgono di nuovo e superano gli all time high due mesi era per dire a volte ci mettono 5, 6, 7 mesi, a volte un mese se non era un airdrop era un fair launch come doveva essere ad esempio questo stato CWM questo ha fatto comunque molti multipli in una notte se non è un fair launch è un launchpad di Binance quindi ogni nuovo lancio comunque dipende ma ha un suo mercato a sé, un suo pattern però i due tipi di token più interessanti sono i nuovi token perché non hanno storie quindi non hanno limiti in quello che possono fare perché non hanno holder che vendono a un determinato prezzo non hanno... molti dei token sono bloccati come ad esempio parcelestia quindi è molto facile per un nuovo token fare bene e l'altro tipo di token è quello che ha una narrativa facile da condividere e che porta attenzione quindi se vedete un token molto discusso probabilmente non so se lo dovreste comprare perché dipende da token a token ma cercate di andare a capire perché sta ricevendo attenzione ad esempio mi ricordo che stavo vedendo spesso prima che esplodesse Bonk Bonk lo vedevo costantemente messo nelle reply e siccome non sono bravissimo a fare trading di MemeCoin l'ho sempre tendenzialmente ignorato l'ho tendenzialmente ignorato però sapendo che sarebbe salito o meglio sapendo era il classico pensiero di ora non lo compro e sale non l'ho comprato perché non ho particolare edge nelle MemeCoin ho fatto un po' di esperimenti però non ho particolare edge nelle MemeCoin e quindi l'ho lasciato andare però sapevo che aveva così tanta attenzione che aveva effettivamente del potenziale per fare poi quello che ha fatto poi in realtà ha fatto molto più di quello che credessi però è salito di tantissimo anche da quando avevo iniziato a vederlo questo perché c'era attenzione ci sono altre persone come me altre persone che come me l'hanno visto ma non hanno pensato non compriamo hanno pensato compriamolo il token è iniziato a salire più saliva più le persone ne parlavano questo è diventato un feedback look positivo e sono entrate sempre più persone quindi noi facciamo trading di attenzione ed è un concetto che secondo me bisognerebbe portarsi dietro quindi questo era tutto potete scrivermi su YouTube o su Discord rispondo su entrambi grazie a tutti